come può essere Swing Out, Sister o A Star di Fama Nazionale, come possono essere i cantautori che abbiamo messo in cartellone. In più arricchita anche dall'intervento dell'Orchestra Magna Grecia che consideriamo un bene assoluto della città, quindi anche in questa volontà assoluta di proporre progetti originali che in qualche modo siano anche trasversali rispetto al pubblico. Quindi, che so, l'Orchestra Magna Grecia e l'Aurora rappresentano, se vogliamo, la cosa più estrema che abbiamo messo in cartellone per avvicinare un pubblico molto più giovane, ma anche dando la possibilità agli amanti dell'orchestra e dell'arrangiamento e di un certo tipo di suono di poter beneficiare gli artisti nuovi e quindi entrare in un comprensorio di conoscenza assolutamente nuovo. Swing Out, penso sia il fiero all'occhiello perché è un progetto internazionale in esclusiva nazionale, questo ci tengo a ribadirlo, quindi è una cosa che porterà a Taranto tante agenti da fuori. Quindi riteniamo di aver impaginato un cartellone accattivante e se vogliamo anche fresco rispetto a tante altre proposte che si vedono in altri cartelloni in giro nel comprensorio. Grazie. Grazie, prego.